A sta la vista ragazzi! Io sono Cyborgamer da Fottuto Futuro ed eccoci qui oggi in un nuovo mitico episodio della serie su Dragon Ball Xenoverse 2. Ed eccoci qua ritornati con il nostro caro pattugliatore temporale che ragazzi sta qui a meditare come il nostro caro Jiren durante il torneo del potere. Ma che figata è ragazzi? Non avevo ancora visto che c'era questo gesto che si poteva fare, cioè sapevo che c'era appunto nel gioco, lo avevo visto magari in qualche immagine, ma non l'avevo visto appunto che c'era nei gesti del mio pattugliatore. E credo che userò questo gesto molto più spesso perché è una figata assurda ragazzi, subito ti rimanda, ti ricorda, Jiren insomma, quando fa le sue cose, le sue meditazioni, si mette lì a pensare e tutto quanto. Comunque siamo qui in compagnia di Vecu e a proposito di Vecu scorreggione, oggi ragazzi lo andiamo a cambiare. E sì, perché appunto andremo ad acquistare una nuova mascotte Capsule Corporation e andremo a sostituire il caro Vecu. Non che lo toglieremo per sempre, non lo abbandoniamo di certo, però ragazzi dobbiamo anche andare avanti. Quindi mi sono procurato e mi sono farmato tantissime medaglie pattugliatore temporale e adesso andiamo subito al negozio e svaliggiamo appunto la nuova mascotte che ho in mente già quale sarà. Ma prima di cominciare mi raccomando ragazzi ad andarvi a recuperare, se non volete essere terminati all'istante, lo scorso episodio di Xenoverse 2 in cui semplicemente abbiamo esaudito al drago Sherron, appunto con le sette sfere, il desiderio voglio un altro attacco speciale e appunto abbiamo sbloccato ben due attacchi speciali del nostro caro Omega Sherron, Lee Sherron, Super Insulon insomma e le abbiamo provate nell'allenamento per bene, notando tutto quanto. Quindi ragazzi vi lascio la scheda qui in alto e il link in descrizione. Detto questo, svegliamo il nostro caro pattugliatore dalla meditazione, bellissimo anche come scende appunto dallo stare in aria, dallo stare lì in stasi, in aria e appunto si sveglia e scende per bene, c'è anche l'animazione, non è che all'improvviso cade da lì, da in aria, no, fa anche l'animazione quindi molto bene. Svegliamoci un attimino e ragazzi andiamo subitissimo al caro negozio medaglie pattugliatore temporale. Io come sempre vado a farmare come un pazzo ragazzi nel mio tempo libero, così appunto da essere sempre pronti. Quindi facciamo parla, mi dispiace già per Vecu ragazzi che tra poco se ne deve andare, ma non per sempre, lo rivedremo, lo rimetteremo ancora, però per il momento per fare sto episodio se ne deve andare un attimino. Quindi accediamo qui, andiamo subito a Mascot Capsule Corporation e qui ragazzi ne abbiamo ancora tre. Abbiamo quella di Pual, colori di Yamcha, poi abbiamo quella di Yao Zi, quindi Riff, colori di Tao Bai Bai, molto interessante, e poi abbiamo Icarus che questa qui è quella del DLC 14, la compreremo più in là. Quindi a sto punto ragazzi io direi di iniziare dalla prima, cioè andiamo in ordine, ce le togliamo man mano una alla volta e appunto ce le controlliamo, ce le analizziamo come facciamo sempre. La prima è Pual, colori di Yamcha, e come sappiamo Pual, appunto lo abbiamo visto la prima volta nella prima serie di Dragon Ball, è un personaggio diciamo simpatico ed è anche un mutaforma, quindi può mutare il suo corpo in vari personaggi, credo chiunque, non credo ci siano dei limiti, però appunto è molto interessante come cosa, è un mutaforma cazzo. Il prezzo, scordatevi che cambierà mai, quindi sempre ben 1500 cazzo di medaglie, pattugliatore temporale, noi ne abbiamo 7500 ragazzi, cioè non so se avete capito, non so se avete capito, cioè mi sono dato assai da fare e farmerò ancora di più per essere sempre pronto ad ogni evenienza. La descrizione ci dice, una mascotte che porta gli stessi colori indossati da Yamcha, farà emergere tutta la dolcezza che c'è in te. Oh che bello, che bella descrizione, mi piace sta cosa. Comunque sia per quanto riguarda i colori, io qui vedo che c'è Pual e non ha i colori originali, credo, cioè sembrano essere quelli però sono un po' più chiari. Io mi ricordo che Pual con i colori originali ha tipo il marroncino, il panna un po' più chiaro appunto sulle parti chiare, come c'è qui il marroncino, è un verde molto molto scuro attorno, che sembra un verde acqua molto scuro. Mentre questo Pual con i colori di Yamcha vedo appunto che ha dei colori diversi, essi corrispondono appunto ai colori che aveva il nostro caro Yamcha nella prima serie di Dragon Ball, nella sua prima apparizione, anche dopo, per un bel po' insomma. E quindi sì, i colori corrispondono a quel completo che aveva lì, infatti abbiamo il marroncino che aveva nei pantaloni, il verde acqua qui un po' più chiaro nei contorni, come vediamo, che Yamcha aveva appunto sul busto, sulla parte del busto del suo abito, e poi abbiamo l'arancione, era anche lì presente un arancione scuro, qui abbiamo l'arancione sotto i piedi di Pual, se vedete c'è l'arancione, non è marroncino quello. E ovviamente, come sempre, ci sono le altre due versioni di questa stessa mascotte, ma con colori diversi che sarebbero appunto i colori originali e un altro tipo di colori che non so. Quindi noi abbiamo il colore, diciamo, secondario e terziario, ecco, quindi non è quello originale, ma s'omigliano un po', ecco. Quindi ragazzi, non ci resta che acquistare, mamma mia che momento, facciamo conferma, totale 1500 medaglie pattugliatore temporale, confermi l'acquisto? Sì, mamma mia ragazzi, mamma mia, abbiamo perso 1500 medaglie pattugliatore temporale che sono tostissime ragazzi da farmare, fidatevi, se uno non le vuole acquistare, ovviamente non vuole spendere soldi inutilmente. E appunto ragazzi, siamo a 6000 adesso, comunque va benissimo. E quindi usciamo, non facciamo tante storie, usciamo, ci mettiamo in un altro luogo, ci mettiamo qui in questo luogo abbastanza tranquillo, togliamo la mascotte e la modifichiamo subitissimo. Quindi andiamo ovviamente a opzioni, impostazioni, veicolo, mascotte, capsule, corporation, ed ecco qui ragazzi Pual al quarto posto con la stellina del nuovo, quindi perfetto. Ed eccolo qua, quindi facciamo conferma e io adesso ragazzi sono in hype, non so effettivamente quale animazioni potrà fare Pual, questo Pual. Una cosa che posso immaginare almeno conoscendo il personaggio è che possa magari mutare forma in qualcos'altro, ok? Se lo fa è perfetto, però non so davvero cosa possa fare. Quindi vediamo subito, dai che sono curioso ragazzi, ok l'abbiamo impostata. Comunque facciamo quadrato e stiamo attenti, vediamo un attimo ragazzi, il colore è bellissimo. Ok, fa un saltino e appunto come se si trasforma, ma in realtà non cambia forma, bello, mi piace. Ecco, vedete? Questa è quella che fa più spesso evidentemente. Stiamo attenti, guardiamo. Ok, batte le mani, fa un suono molto molto dolce ragazzi, davvero. Ecco, bellissimo, già mi piace, già mi piace, ve lo dico. Oh, che bello, il saluto con i cuori ragazzi, due saluti con i cuori. Quindi tre animazioni, già ci siamo. Ok, il saltino con la trasformazione, ve l'ho detto, me lo immaginavo perché è la sua dote principale. Però non si trasforma, sarebbe stato molto più epico, ecco. Perfetto ragazzi, comunque veramente di una dolcezza incredibile, anche perché Pual è dolce, cioè non è che un personaggio combattente. È un personaggio ovviamente dolce. Ok, ho visto un'altra animazione, eccola, c'è anche questa ragazzi. Questa animazione qui è fantastica, tipo quella di Fat Gogeta, insomma, di Veku. Ok, questa è la più dolce ragazzi, dai, ammettiamolo, è la più bella. Vediamo, vediamo le altre. Ecco qui ragazzi, questa qui è come se tipo trema di paura, perché non sembra che stia correndo, non sembra che stia facendo nulla. Comunque, sembrano essere quattro le animazioni principali, non ne vedo altre. Credo che siano quelle le animazioni, non penso che siano più di quattro, eh. Sarebbe troppo. Ok, comunque già mi piace, vediamo di mettere la modalità foto ragazzi. Apri fotocamera e la guardiamo un attimino, dato che abbiamo la possibilità di usare la modalità foto anche qui a Conton City. Ed ecco qui ragazzi, i colori ovviamente sono come nell'immagine prima dell'anteprima. E sì, praticamente è un marroncino, abbiamo anche il verde acqua, perché non è un verde normale, è più un verde acqua. E poi abbiamo l'arancione, infatti ragazzi se notate ci abbiamo, vedete sotto le zampette, soprattutto posteriori, abbiamo l'arancione. L'arancione che piace a me tra l'altro, cioè ragazzi ma stiamo giocando, ma stiamo scherzando, cioè mettono su una mascotte l'arancione che piace a me, che è come quello del retro della testa del mio pattugliatore, cioè, ma non è che lo faccio apposta. Qui abbiamo il simbolo della Capsule Corporation, dato che Bulma, insomma la Capsule Corpo, ha creato queste mascotte, e quindi ragazzi davvero perfetto, mi piace. E poi ce ne rimane tra l'altro un'altra dopo questa, che è quella di Riff, che potrebbe essere anche quella molto dolce. Quindi perfetto, vediamo ragazzi che fa, se appunto voliamo, vola anche lui perché ha la capacità di volare. Vediamo un attimo che fa, se mi fermo, ok, semplicemente si ferma anche lui, sta lì che sta in aria, insomma, aleggia così nell'aria, quindi normale. Se vado con Laura che fa, aspetto, visto che ha fatto una cosa molto interessante, cioè si gira come fa il mio pattugliatore, guardate un po', cioè il mio pattugliatore fa quella roteazione, diciamo, e lo fa anche Pual, cioè guardate un po', ragazzi, cioè non lo fa in contemporanea, ma quasi, cioè bellissima sta roba. Non me l'aspettavo, ok, se invece cammino per terra, che fa l'animazione che cammina anche lui? No, vola, mentre per Vecu la situazione era diversa. Qui ragazzi, guardate un po' che fa, cioè vola, semplicemente vola, ok. Ok, sto facendo delle prove ragazzi, giusto così per vedere che cavolo fa. Cioè rimane così fluttuante nell'aria, è una cosa molto bella ovviamente, quindi non cammina con le gambe, sta fermo con le gambe paralizzate sostanzialmente. Se invece uso Laura, non usa Laura lui ovviamente, perché non l'ha mai fatto, e non so neanche se l'abbia. E il bello è che è rotea, cioè ragazzi, fa questa roteazione bellissima, come quella del mio pattugliatore. Cioè io rimango sbalordito da sta cosa, mentre quando volo piano, in questa maniera qua, flutto anche lui piano, come fa il mio pattugliatore. Con la coda anche lui, anche il mio pattugliatore ha la coda, quindi siamo molto più simili di quanto pensiamo, insomma. Quindi, ricapitolando, abbiamo quattro animazioni principali. C'è il salto con, tipo, la trasformazione, però non si trasforma, esce solamente il fumo rosa. C'è abbiamo il saluto, anzi due saluti con entrambe le mani, con i cuori che appaiono, con dei bei suoni. E poi abbiamo questa scena qui, ragazzi, tipo quella di Veku, che ha paura, tipo tutto tremolante. Questa qui, ecco, l'ha fatta due volte stavolta. E poi abbiamo un'altra ancora, che sarebbe questa qui, ragazzi, semplicemente, che batte le mani, quindi. Molto dolce, molto simpatica, devo dire, Veku fa molto più ridere, fa casino, fa devasto, però non mi aspettavo niente di meno. Me l'aspettavo esattamente tipo così, dolce, simpatica, che dà amore, dà cose così. Infatti non me lo sono mai visto come un personaggio violento, roba così, ma me lo sono sempre visto come un personaggio docile, tranquillo, che aiuta sempre Yamcha, che gli sta sempre vicino. E tra l'altro, ho letto una dichiarazione di Akira Toriyama, che dice che non è né un gatto né un topo, e non si crede neanche che sia una femmina, Pualma sia un maschietto, quindi ok, sappiamo anche questo. Mi sono andato un attimino a documentare un po' di tempo fa, e mi è riuscita questa notizia, quindi ci sta, ragazzi, ok, quindi un maschietto, Pual è un maschietto, e non si capisce bene se è un gatto, un topo, un misto, è un, diciamo, un personaggio magico, ecco. E quindi, ragazzi, quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto, abbiamo acquistato questa fantastica, mitica, dolcissima, mascotte, appunto, Capsule Corporation, del nostro caro Pual, con questi colori di Yamcha. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto, ovviamente non a livelli estremi, come per Vecu, che è una mascotte molto particolare, scorreggione, eccetera, eccetera, però diciamo che qui siamo su un'altra tipologia di mascotte molto più dolce, molto più tenera. E ci sta tantissimo, quindi volevo anche provare, e ho detto, dai, spendiamone queste altre 1500 sudatissime medaglie pattugliatore temporale, almeno portiamo un altro contenuto, ci analizziamo questa mascotte che ancora non aveva acquistato, e ce le togliamo man mano. Infatti la prossima credo che sarà Riff, a sto punto che è l'ultima, e poi, ragazzi, vedremo per Icarus successivamente più in là. A questo punto il video è giunto al termine, mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere un po' che ne pensate, appunto, di questo episodio, di questa mascotte di Pual con questi colori di Yamcha. Fatemi sapere se l'avete acquistata anche voi, se la utilizzate, quali colori avete, quindi fatemi sapere un po' quello che vi va. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti, e ricordatevi sempre che io tornerò.